Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno. Oggi è martedì 31 marzo e come da tradizione di due giorni fa vi dico che giornata internazionale è oggi. Oggi è la giornata internazionale del backup che non sapevo esistesse, non so perché esista, ma visto che esiste per festeggiare fate un bel backup dei vostri dati. Comunque fra un po' non sarà più neanche un problema se perdete i dati perché potrete chiedere direttamente al governo. Qui ci vorrebbe, questo inizio un po' la luttarsi, non ve l'aspettavate, perché è la giornata mondiale del backup e sono particolarmente ispirato. Va bene, allora parliamo, allora oggi vi parlo di globalizzazione, vi parlo di bioregioni europee, di batteri che mangiano la plastica e degli Stati Uniti che mettono una sorta di taglia su un maduro. Ma procediamo con ordine. Allora, partiamo proprio segnalando un'intervista interessante di Jeremy Rifkin, l'economista, che immagino conoscerete, su Repubblica. È nella versione a pagamento, ma vi lascio comunque il link dell'articolo se per caso siete abbonati. Dal titolo, la globalizzazione morta e sepolta, la distanza sociale sarà la regola. In realtà il titolo è un po' fuorviante perché, sebbene parte da queste due considerazioni, le cose interessanti a mio avviso sono altre. Comunque ve lo sintetizzo, Rifkin parte appunto da queste due considerazioni. La prima è che il fenomeno del distanziamento sociale non svanirà da un giorno all'altro. È una cosa che abbiamo sentito ripetere, diciamo, c'è stato questo articolo che ha girato molto, non ne abbiamo mai parlato, ma comunque ve lo lascio anche questo in descrizione, anzi sulla pagina della segna stampa di italiachecambia.org, dove trovate tutti gli articoli di cui parlo. È un articolo del direttore della MIT Technology Review, Gideon Lickfield, che sostiene che, visto che il virus appunto non svanirà da un giorno all'altro, probabilmente anche quando torneremo ad uscire di casa, resteranno attive alcune forme di distanziamento sociale. Perciò andranno ripensati tutti i luoghi dove le persone stanno assieme, tipo, che ne so, uffici, teatri, cinema, scuole, per permettere una distanza maggiore alle persone e saranno monitorati costantemente nuovi casi di malattia per procedere a ulteriori lockdown ogni volta che il sistema sanitario rischia di andare sotto stress, soprattutto il reparto di terapia intensiva. È uno scenario, un'ipotesi ovviamente, lui in questo articolo, in questa intervista, a fare riferimento a questo scenario. E la seconda considerazione da cui parte è che la globalizzazione, così come la conosciamo, con la produzione e il consumo che sono posizionati in luoghi molto distanti fra loro del globo, è morta e che dovremo trovare delle forme nuove di economia e organizzazione sociale, forme nuove e più resilienti. È un'idea che ho già sentito già da diverse parti in questi giorni, circolare, ne ha parlato Romano Prodi in tv, me lo avete segnalato proprio ieri nei commenti, ne ha parlato Forchielli in un'intervista. La cosa interessante di questa intervista specifica di Rifkin è che l'economista parla di un progetto che era già in essere prima dell'epidemia e che ancora però non era stato lanciato, che non conoscevo sinceramente. È un progetto europeo che rientra nell'ambito del Green Deal e che riguarda le bioregioni. Appunto, doveva essere lanciato nelle settimane scorse, ma poi tutto è stato bloccato e rimandato per via dell'emergenza, ma sembra una cosa interessante. Le bioregioni, per chi non avesse familiarità con il termine, sono delle aree geografiche che hanno delle caratteristiche coerenti, possono essere una vallata, o che sono delimitate, ad esempio da una catena montuosa. Ed è un concetto interessante quando parliamo di resilienza. Inoltre, lo stesso Rifkin, che fa parte di questo progetto, parla che il progetto prevederebbe delle nuove forme di governance locale per aiutare la politica tradizionale a organizzare queste nuove entità e accenna a un comitato di 300 persone provenienti dal territorio, fra esperti, accademici, studenti, e così via. Allora, nell'intervista non ci sono in realtà molti elementi per capire quanto questo progetto sia davvero innovativo, però è sicuramente qualcosa da tenere d'occhio. Non c'è ancora niente, ho cercato un po', molto velocemente, in realtà questa mattina in rete, non ho trovato documenti che lo spiegano meglio, quindi magari ne parliamo meglio un'altra volta, però intanto teniamo a mente che c'è questa cosa e l'andremo ad esplorare. Fra l'altro, sempre nell'intervista Rifkin accenna il fatto che anche negli Stati Uniti sta succedendo qualcosa di simile, non parte dal governo centrale, parte da alcuni governi locali, dalla senatrice Ocasio-Cortez, non lo so, staremo a vedere. Comunque è una prospettiva interessante, è una delle tante cose che potrebbero succedere come risposta all'epidemia, a questa crisi socio-sanitaria. Va bene, chiudiamo questo capitolo e passiamo alla seconda notizia del giorno che vi avevo un po' anticipato ieri. Sono stati scoperti dei batteri che mangiano e digeriscono il poliuretano. Il poliuretano è una sostanza piuttosto tossica che rilascia delle sostanze cancerogene. Questo batterio praticamente non solo rompe questa plastica e sembra non accusare le sostanze tossiche che invece sono tossiche per l'essere umano ma anche per molti altri batteri, ma la utilizza come cibo e quindi come energia per alimentare il processo stesso. E' un'ottima notizia, fra l'altro non è la prima, è la prima volta che viene scoperto un batterio che digerisce il poliuretano, ma non è la prima volta che viene scoperto un batterio che digerisce o scompone la plastica. Tant'è che si inizia a parlare di biorecycling, quindi la possibilità di riciclare i materiali attraverso organismi viventi capaci di scomporli in molecole più semplici. più semplici. Fra l'altro, nello specifico della plastica, questi organismi hanno un sacco di cibo a disposizione sparso per il pianeta perché ogni anno, come sappiamo, milioni di tonnellate di plastica vengono prodotte per essere utilizzati in articoli come scarpe sportive, pannolini, spugne da cucina, isolanti in schiuma e la maggior parte di questi prodotti una volta utilizzati viene inviata in discarica perché sono troppo difficili da riciclare oppure incenerita ancora più spesso. Dicevamo, è un'ottima notizia, però visto che ci conosco un po' come siamo fatti noi esseri umani e siamo capaci di prendere questa notizia e iniziare a pensare che allora abbiamo risolto completamente il problema della plastica, tanto ci pensano i batteri, allora possiamo continuare a usarla come quanto prima, anche di più, gettarla in mare non è un problema. bisogna precisare che è vero esattamente il contrario, nel senso che questi batteri saranno utili a risolvere i problemi fatti fin qui solo se cambiamo radicalmente da adesso i nostri stili di vita, i nostri usi e consumi e smettiamo di usare tutta questa plastica. E più in generale, senza parlare per forza solo della plastica, si allarghiamo il discorso, tutte queste materie prime e quindi smettiamo di consumare tutta questa energia, produrre tutti questi rifiuti e così via. Perché con un sistema di produzione e consumo come quello attuale non esiste nessun batterio al mondo, purtroppo, che ci possa aiutare, neanche di una virgola. E comunque, fra l'altro, serviranno, secondo gli stessi ricercatori, almeno una decina d'anni perché si riesca a mettere in piedi un processo di scala per appunto processare grosse quantità di plastica. Insomma, aiutiamoci che il batterio ci aiuta, no? Si potrebbe dire, anche se forse è un po' blasfego, però passatemela. Va bene, allora, siamo quasi a fine, però vorrei darvi un'ultima notizia di geopolitica che è passata un po' inosservata, un po' in sordina viste gli avvenimenti dell'ultimo periodo. Gli Stati Uniti hanno accusato, qualche giorno fa, il presidente venezuelano Nicolás Maduro e in realtà altri 14 membri anche del suo governo di narcotraffico, una accusa abbastanza grave, anche molto grave, anzi, di narcotraffico, corruzione e riciclaggio di denaro, offrendo una ricompensa di 15 milioni di dollari a chi collaborerà con le autorità statunitensi per fornire informazioni utili per la cattura del politico sudamericano. Secondo il Dipartimento di Giustizia americano, il leader ci ha vista, con l'aiuto delle FARC, farebbe arrivare tonnellate e tonnellate di droga negli Stati Uniti. il che può anche essere vero, però tutta l'operazione sa molto più di manovra politica, anche perché il Venezuela non è certo l'unico paese sudamericano che esporta droga negli Stati Uniti. Piuttosto è vero che il Venezuela è il primo paese al mondo per distacco, per riserve stimate di petrolio, nonché uno dei pochi paesi produttori di petrolio che non ha un governo che è amico degli Stati Uniti. E questa sicuramente potrebbe essere una motivazione forse più valida per spiegare quello che sta succedendo. Quindi niente, continuiamo a tenere d'occhio la situazione geopolitica nel mondo perché tante cose stanno cambiando, ne abbiamo parlato nelle scorse puntate ed è interessante vedere come gli scenari si modificano seguendo questa situazione che è in costante aggiornamento, ogni giorno ne succedeva un nuovo. Va bene, direi che possiamo fermarci qui per oggi, io vi saluto, vi ringrazio se siete arrivati fin qua e vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Unirassegno sempre 10, sempre per 10 minuti. Buona giornata internazionale del backup e ricordatevi anche oggi chi si rassegna è perduto. Ciao!